Per un bimbo, le radici e le ali. È il titolo di un progetto inclusivo, di valore e attenzione, rivolto a tutti i bambini delle scuole dell'infanzia Piccolo Principe, Ragnetti e Arcobaleno, che fanno parte dell'istituto comprensivo Marco Polo di Lucrezia. Un progetto realizzato grazie al coordinamento degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, che si impegnano per favorire un percorso di potenziamento per bambini che mostrano piccole difficoltà legate al linguaggio, al comportamento o alle attività motorie, attraverso interventi educativi e didattici mirati. Questo progetto nasce dall'esigenza improrogabile di soddisfare e di andare incontro alle necessità e bisogni di ciascun bambino che frequenta il nostro ordine di scuola, in particolar modo con i bambini che vivono qualche difficoltà in più. È un obiettivo molto più ampio perché ha un carattere inclusivo, inclusivo a livello, io dico, orizzontale e verticale. Orizzontale nel senso che nel momento in cui viene dato un supporto e un potenziamento a questi bambini che vivono delle difficoltà, questo aiuto che viene dato sicuramente serve anche a garantire una maggiore inclusione a livello della sezione. Nel momento stesso in cui un bimbo riesce a vivere con serenità la sua vita scolastica, senza dubbio ha un valore inclusivo per la sezione, non solo. Dal momento che le difficoltà che vivono questi bambini possono essere superate, perché sono difficoltà che nascono magari da quei turbamenti che tutti viviamo nella nostra vita. Nel momento in cui vengono aiutati a superare questi piccoli turbamenti, queste piccole discrepanze, diciamo, questa cosa ha un valore fondante e inclusivo per l'intera sezione e anche per permettere loro, dal momento che sono in difficoltà temporane, di arrivare alla scuola dell'obbligo in una maniera più serena, in una maniera più forte, diciamo, rafforzando le proprie potenzialità. Ci sono delle figure specializzate nella vostra scuola? Il percorso prevede l'aiuto di figure specializzate esterne, che possono essere logopedisti, psicomotricisti, educatori. Quest'anno il progetto, grazie al riconoscimento della Fondazione Carifano, è stato inserito nella rete del dono, perché insieme è possibile dare voce ai più piccoli. Com'è possibile donare? È molto semplice, basta andare sul sito della rete del dono, quindi www.retedeldono.it, si cerca il progetto Le Radici Leali dell'Istituto Marco Polo e si accede quindi alla pagina del progetto e lì c'è la possibilità sia di donare direttamente oppure si può anche diventare collaboratori della donazione. Il coinvolgimento è anche a livello del territorio, perché tutti quanti insieme ci facciamo carico dei nostri bambini che hanno bisogno di essere sostenuti e aiutati nel loro percorso. Quest'anno, grazie alla Fondazione Carifano, c'è la possibilità di raddoppiare tutto ciò che viene donato, quindi un importo donato diventa automaticamente il doppio, quindi mi raccomando, tutti quanti donate, perché chi aiuta un bambino, aiuta il mondo intero.